Il nostro amico avvocato Giannetto Regassani, La guerra dei rossi, racconti di famiglie e di violenza prima e durante il Covid. Ecco qua il suo libro. Avvocato, noi parliamo di molte dinamiche di violenza nel nostro programma, come sono cambiate prima e durante il Covid? Qual è il cambiamento? Diciamo che durante il Covid c'è stata un'esplosione di violenza intrafamiliare preoccupante. Perché possiamo tranquillamente parlare di emergenza familiare, non soltanto sanitaria ed economica. Io come avvocato veramente ho toccato con mano qualcosa di straordinario. Perché vorrei sottolineare una cosa, anche noi avvocati abbiamo fatto la nostra parte in questo periodo. Abbiamo offerto il nostro contributo in questa sorta di pronto soccorso legale. C'è più ira e c'è più violenza nelle famiglie, ci sono figli come nel caso di Bolzano che sono accusati di aver ucciso i genitori, ci sono mamme come nel caso della povera Rosina che vengono trovate morte e non si capisce se è stato un uomo incappucciato o meno. Ma certamente sì, abbiamo avuto un aumento del 70% della violenza nel 2020 rispetto al 2019, il 20% in più di femminicidi. Abbiamo avuto addirittura 1370 provvedimenti all'ontanamento del violento da casa, violati. È stata una terra di nessuno perché mentre i tribunali sono rimasti chiusi, giustamente. Noi avvocati abbiamo continuato a lavorare. Io nel libro La guerra dei russi con la prefazione di Maurizio De Giovanni, il giudice De Gioia e la postfazione di Diana Parnetteri, il saluto, io ho raccontato per esempio che ho incontrato le donne davanti ai supermercati perché non potevo chiamarle a casa. Perché non potevo chiamare a casa queste donne con il marito violento vicino. Ci siamo inventati un nuovo modo di fare gli avvocati. E ci siamo inventati un nuovo modo di soccorrere le persone. Quindi raccogliere anche i mandati e le procure davanti alle file con la mascherina, ma poi le telefonate a qualsiasi ora. I telefoni bollenti e soprattutto la cosa più preoccupante, questo lo voglio dire a chiare lette da quelli che ci ascoltano, è la violenza assistita. Cioè i bambini che hanno assistito a queste violenze sono testimoni, tante volte è qualcosa di agghiacciante. Allora ricordiamo il libro La guerra dei rossi, i racconti di famiglie e di violenze, prima e durante il Covid, Giannettore Gassani. Grazie avvocato.